2 settembre 2023 a Lottantesima edizione del Film Festival è avvenuta per alcuni giorni a Venezia. Il famoso evento che in passato ha visto Divi Hollywood sfilate del calibro di Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Sofia Loren e che ora vede attori come Adam Driver, Bradley Cooper. Ma nell'era sociale, gli influenti, le nuove star del nostro tappeto rosso, non possono mancare. Al festival c'era anche Clissi in Corvaia. Senza il suo partner, Paolo Ciavarro invece presenti sugli spalti dell'Olimpico. Il siciliano si presentò nella laguna con un lungo abito leggero del marchio di Solico. Anche in modo volgare cos'è quello? Ma cosa c'entra con il cinema? Resta a casa e vai al lavoro. Ma il significato di lei a Venezia? Negli ultimi anni molti odiatori hanno lanciato contro coloro che secondo loro non avevano il diritto di sfilare in passerella insieme alle stelle del cinema. Ma il Festival del Cinema di Venezia negli ultimi anni ha rifatto anche il look. Ospitando anche sul tappeto rosso personaggi che non hanno accordo con i film in competizione. Ma che hanno seguaci e che, soprattutto, atterrano nella laguna per sponsorizzare i marchi di alta moda.